Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo a attraverso le parole dei miei ospiti. Il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo sia vero, invece non lo è. Ho voluto utilizzare questa citazione di Mark Twain per introdurre l'argomento di questa puntata e soprattutto l'ospite di oggi, che ci svelerà alcune insidie che si nascondono nel web, nella rete internet. Laureato in economia e amministrazione di impresa con una tesi sul web 2.0, lavora come webmaster e si occupa di sviluppo e gestione di siti web, social media marketing e formazione. Inoltre gestisce e aggiorna diversi siti della pubblica amministrazione. Un punto di riferimento importantissimo in relazione a quello che fa a livello mediatico. Un valido strumento al servizio di coloro che si approcciano al web in maniera un po' troppo sconsiderata e un'ancora di salvezza per chi cerca una vera e propria tutela telematica. Promotrice e ideatrice del progetto Il lato oscuro del web, si batte da tempo in ambito locale per contrastare a livello preventivo l'insorgenza di comportamenti definiti a rischio per chi naviga e per chi, dall'altra parte, approfitta dell'ingenuità e della scarsa conoscenza altrui. E qui con noi oggi Katia Dorta. Benvenuta Katia. Ciao Fabrizio. Come stai? Tutto bene? Bene. Tutto a posto? Cominciamo con una domanda molto diretta. Utilizzare la rete oggi, nonostante sia abbastanza semplice. È diventato così rischioso? Assolutamente sì. Allora la prima cosa che io tendo sempre a dire è che comunque internet deve essere interpretata come una risorsa. Il fatto che io parli dei rischi è perché voglio andare invece a evidenziare la potenzialità della rete. Purtroppo ci sono i pericoli, dobbiamo in qualche maniera istruire i ragazzi ma anche gli adulti all'utilizzo consapevole della rete. Perché utilizzato da una maniera più opportuna ci può offrire tante opportunità. Però dobbiamo prima evitare i pericoli. Quindi una valida risorsa, giusto? È una valida risorsa assolutamente. Infatti quando io parlo dei pericoli sembra che voglia demonizzare lo strumento. In realtà è uno strumento. Quello che dico sempre, anche il coltello è uno strumento. Se utilizzato per tagliare il pane diventa uno strumento utile. Un valido strumento, certo, normale. Se invece mi faccio male, mi taglio quel coltello, quello strumento diventa potenzialmente pericoloso per me. Per cui bisogna come in tutte le cose capire quali sono i pericoli della rete. Io in qualche maniera vado nelle classi e quello che faccio è parlare con i ragazzi che sono nativi digitali ma pur essendo nativi digitali quindi nati in un'epoca storica in cui il digitale rappresenta la loro normalità, hanno una disinvoltura nell'utilizzare il mezzo e quindi non si rendono conto che potrebbe essere molto pericoloso. Si può confermare con cognizione di causa che i giovani d'oggi rispetto ai giovani di una volta sono molto molto più svegli e quindi apprendono molto più facilmente. Questo potrebbe essere anche un pericolo o un'insidia. Sì, diciamo che anche le interfacce grafiche e i software in questo momento sono molto facili da utilizzare. Si dice user friendly. Quindi gli strumenti necessari per accedere, per lavorare, per navigare. Sì, sono fatti a prova di stupido se mi passi il termine semplicemente perché possono essere utilizzati sia dal bambino di due anni che dall'anziano sono di 80. Per cui a volte ci illudiamo che questa sia una loro intelligenza. In realtà sono bravi insomma i programmatori, coloro che fanno le interfacce grafiche a crearle. È un'intelligenza fittizia, giusto? Sì, è un'intelligenza che è data dal fatto che dietro ai software, dietro alle applicazioni c'è un'usabilità dello strumento che deve essere accessibile a tutti. Quindi a prova di stupido. Snoccioliamo un po' di dati Katia, giusto per entrare nel vivo. Una delle ultime ricerche accreditate ci rivela che il 17% dei ragazzi intervistati dichiara di non riuscire a staccarsi da smartphone e social. 1 su 4 è sempre online, quasi 1 su 2 si connette più volte al giorno, 1 su 5 è afflitto da vamping, quindi si sveglia durante la notte per controllare i messaggi sul cellulare. Uno degli allarmi lanciati dalla ricerca è quello dell'età in cui gli adolescenzi si iscrivono a Facebook. Stiamo parlando di 11 anni. Molti di loro, anzi il 71% rivela che a 11 anni hanno ricevuto in donno il loro primo smartphone e poi successivamente a 12 le chiavi di casa. Se i ragazzi sono così attaccati a internet non lo sono di meno i genitori che per parlare con i propri figli utilizzano spesso e volentieri i social. Katia, faccio veramente fatica a chiederti un parriere in merito, anche perché tu sei mamma di due bambini, ma cosa sta succedendo? Allora, la prima cosa che bisogna dire è che effettivamente l'iscrizione ai social network può essere fatta solo dai 13 anni in poi e quindi non a 10-11, quindi sicuramente questi ragazzi mentono sull'età. E questo, insomma, è un dato di fatto. Quindi bisogna affiancarli nell'utilizzo dello strumento. Nel momento in cui forniamo il nostro smartphone ai ragazzi bisogna spiegare come utilizzarlo nella maniera più opportuna, anche perché il rischio di adescamento sui social network è sicuramente un rischio reale e quindi bisogna assolutamente tenerne conto. E poi io dico, nel momento in cui abbiamo spiegato i pericoli e li abbiamo affiancati, questo può anche non rappresentare un pericolo per i ragazzi. Nel senso che se loro lo vedono con disinvoltura va bene. L'unica cosa è che effettivamente casi di vamping piuttosto che di dipendenza, quelli sono dei casi esagerati, ovviamente. I ragazzi devono uscire, devono essere stimolati in maniera diversa. Sì, sì, in Italia c'è il rischio di quel fenomeno che si chiama Ikikomori, vuol dire che è un fenomeno che ci siamo importati dal Giappone e in cui praticamente i ragazzi vanno verso l'isolamento in camera. Cioè rimangono in camera e fanno tutto lì davanti al pc. Quindi la loro vita diventa una vita online. Perdono ogni contatto con il mondo esterno e addirittura con la propria famiglia al più delle volte. Esatto, e abbiamo importato purtroppo questo brutto fenomeno dal Giappone, ci sono dei casi anche in Italia e in quel caso lì il ragazzo va sprunato a fare altre cose, va stimolato in maniera diversa. Ovviamente lì ci vanno gli specialisti. Tante volte i genitori se ne vogliono prendere carico, ma non è possibile senza l'aiuto. Loro stessi devono prima. E ci arriviamo pure a questo. I genitori, secondo te c'è una sorta di cultura di base da parte dei genitori per impedire o magari facilitare o favorire determinati comportamenti? I genitori spesso sono inconsapevoli. A volte sono loro stessi che non sanno come vengono utilizzati i mezzi. E quindi non conoscendo i pericoli... Lasciano fare. Lasciano fare. Mi sono ritrovata di fronte ai genitori che spesso dicono no, non scende in cortile perché ho paura di chi può incontrare magari nel giardinetto, però poi magari danno loro l'utilizzo dello smartphone 24 ore su 24 senza mettere un... Che paradossalmente è più pericoloso, no? Giusto? Esatto. Perché nel momento in cui io do il cellulare al mio figlio, senza in qualche maniera averlo avvertito, delle dinamiche, piuttosto senza aver fatto il giusto affiancamento, io sto praticamente aprendo la porta di casa. Chiunque può entrare. Certo, assolutamente. Lo smartphone mi mette in relazione, in contatto con tutto il mondo. Cioè gli iscritti a Facebook attualmente sono due miliardi di persone. Questo è un dato oggettivo molto, molto importante. L'adolescente non è tanto su Facebook, utilizza più Instagram, diciamo, ma comunque l'utenza è alta comunque. Sono tanti, tanti, tanti ragazzi che utilizzano Instagram. Nelle iniziative che fai tu nelle scuole, ma tu fai anche pressione sui genitori, perlomeno parti da loro come punto d'appoggio, come inizio? C'è sempre un incontro con i genitori. Una sorta di interazione, giusto? Sì. Io lo faccio a fine corso spesso per segnalare dei casi che mi succedono all'interno delle classi, cyberbullismo, sexting, che vuol dire scambiare materiale a sfondo sessuale con dispositivi, piuttosto che altri casi, insomma, di truffe, piuttosto. E tutte le volte mi ritrovo a parlare con genitori che magari non si rendono conto di quello che sta vivendo il ragazzo. Ma non perché non sono a genitori attenti, ma perché vivono quelle dinamiche in maniera un po' distaccata dai gruppi figli. Si può dire che lasciano correre, presi dalla vita, dalla quotidianità, in un certo senso? Si può dire così? Sì. Diciamo che la maggior parte dei genitori che vengono informati che magari il figlio è un cyberbullo, pensano che sia un gioco, uno scherzo. Tante volte dicono ma no, ma lui voleva solo giocare, voleva solo scherzare, voleva solo... Però il cyberbullismo è reale. Non tutto rientra nel cyberbullismo. In questo momento è un tema abbastanza inflazionato. Ogni volta sentiamo, ah, vittima di bullismo, vittima... E in realtà il bullismo ha delle caratteristiche ben particolari. A me fa sorridere quando sento che quel docente è stato vittima di bullismo. Perché il bullismo non riguarda gli adulti. Quello è un atto delinquenziale. Delinquenziale. Il bullismo riguarda gli adolescenti. Poi c'è una... ci deve essere una ripetizione nel tempo, non il caso isolato. Ci devono essere due persone... Una sorta di recidiva, via. Sì, ci deve essere qualche cosa che è intenzionale, non è lo scherzo fatto occasionalmente. E poi le due parti devono essere poste in due maniere diverse. Nel senso che ci deve essere il più debole, ci deve essere il più forte. Se sono paritari, comincia già ad esserci il bullismo perché la persona si sa difendere. È una sfida, è una competizione, certo. Sì, vedi che ci sono comunque degli elementi che lo vanno a caratterizzare, ma in questo momento ogni volta che c'è un atto delinquenziale di ragazze, bullismo, bullismo, bullismo. Ti sono mai capitati dei casi limite veramente gravi ai quali hai dovuto sottoporre l'attenzione agli organi superiori? Sì, mi sono capitati diversi casi all'interno delle scuole. Il mio progetto parte nelle scuole nel 2011, quindi in questi anni ovviamente mi sono capitati dei casi. Quello che ricordo con più precisione è stato un caso di sexting, nel senso che una ragazzina aveva inviato la propria foto al suo fidanzatino. Questa storia era finita e lui l'aveva diffusa all'interno della rete. Mi sono accorta della cosa perché la ragazza era stata completamente marginata in classe, cioè non faceva neanche l'intervallo con gli altri ragazzi. E un giorno che parlavo dell'argomento, parlavo proprio di evitare, di condividere del materiale personale di quel tipo, intimo, perché può portare tanti problemi. Sì, la cronaca ci ha comunque ribaltato agli ultimi anni. Esatto. Nel momento in cui riporto il caso, lei si è messa a piangere, per cui io ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ho proiettato un video e sono uscita fuori con lei. Per cui lei mi ha raccontato che era proprio vittima e si sentiva proprio chiamata come se io stessi raccontando la sua storia. Certo. Io raccontavo una storia generica di una persona che può aver inviato. Però nella fattispecie avevi già individuato quel preciso caso, quindi la prendevi alla larga in un certo senso giusto? La stavo prendendo alla larga perché spesso capita e loro mi raccontano. La mia fidanzata mi ha inviato quelle foto, perché poi i maschietti sono sempre... Tendono un attimo a esaltare quello che è il proprio ego. Esatto, a mettersi un po' più in mostra e insomma a vantarsi addirittura di aver ricevuto del materiale a sfondo sessuale da parte della fidanzatina. Si parla di dinamiche che avvengono 12-13 anni, quindi secondo me anche molto molto presto, però succedono, capitano. In questo caso il fine non giustifica i mezzi. Per la tua esperienza qual è la parte più predominante all'interno del bullismo? La parte maschile o la parte femminile per quanto riguarda la tua esperienza? La mia esperienza probabilmente è quello femminile ed è anche forse il più agguerrito addirittura quando succede perché le ragazzine fanno molta comunella tra di loro e quindi quando isolano una persona la isolano completamente. In maniera drastica? Sì, ma ultimamente anche il bullismo femminile ricorre anche all'utilizzo della violenza proprio nelle mani, se parliamo proprio di bullismo. Quindi in questi anni mi è capitato di vederle molto cyberbullismo femminile perché le ragazzine commentano molto, giudicano e certo anche i maschietti fanno la loro parte sicuramente, ma si può dire che emulano tutti quei filmati che vediamo su YouTube immancabilmente perché poi ovviamente non vengono censurati, quindi vengono buttati in rete in maniera sconsiderata, quindi magari va da sé che qualcuno possa emulare per il semplice fatto che tanto è stato messo in rete, quindi lo posso fare anch'io. Esatto, secondo me è proprio un fenomeno di emulazione tante volte. Condividere dei filmati in rete, ma lo facciamo a volte anche noi adulti, di violenza in realtà non serve a denunciare quella violenza, ma molte volte a far sì che tanti ragazzi guardano, pensano poi alla fine che sia la normalità, che possa avvenire, che possa essere così e quindi fanno le stesse identiche cose. Questo dell'emulazione è un problema che si pone tutte le volte che ci sono quelle definite challenge, cioè le sfide che i ragazzi fanno. È una sfida sana tra virgolette che fa ridere. È costruttiva, ci sta, è goliardica. Esatto, è goliardica. Ma se la challenge mette a rischio la propria vita, come per esempio quella dei selfie pericolosi, magari fatti sui binari del treno. Scandalosi. Esatto, tanti ragazzi hanno perso la vita per dei selfie estremi, perché sono stati sfidati. Ah, tu non sei in grado di fare quel tipo di selfie. Quello è un fenomeno di... Sono importanti le iniziative che fai tu, perché in un certo senso prevengono determinati atteggiamenti che potrebbero sfociare innanzitutto in reati, seppur minorili magari, di carattere minorile, però comunque stiamo parlando sempre di reati. La rete sta cambiando gli stili educativi e presenta una serie di rischi per i più giovani che vanno dalla pornografia, l'abbiamo citato, al cyberbullismo, allo scambio di informazioni a scopi commerciali e soprattutto all'adescamento online. Un fenomeno molto molto diffuso, ma che non spesso se ne parla. Come mai? Una cosa volevo dire sulla pornografia prima di... che la visione della pornografia spesso viene sottovalutata dai genitori, perché spesso si dice anche ai miei tempi in qualche maniera andavamo a guardare, insomma... Erano altri tempi sicuramente. Ma il problema è che la visione di determinati filmati in un'età precoce, dove magari il ragazzo non è pronto a recepire delle immagini, va a costruire la sua sessualità. Quindi questo cosa vuol dire? Che se mi arriva un messaggio sbagliato da parte di immagini pornografiche, io penso che quello è quello che si fa, è così. E quindi sbagliamo a non capire che tante volte il fatto di andare a vedere dei contenuti che sono inappropriati per i ragazzi potrebbe far loro molto male, proprio per la loro vita, per avere poi una vita sana. Comunque alla base c'è sempre la mancanza di un controllo, di un monitoraggio continuo, c'è niente da fare. Abbiamo parlato di pornografie, di cyberbullismo, però c'è da dire che all'interno delle web è in una parte nascosta delle web che si chiama Deep Web e Dark Web. C'è anche la violenza, ci sono atti croenti, insomma ci sono veramente delle cose inenarrabili. Vorrei che ci spiegassi, Katia, che cos'è il Deep Web e il Dark Web, questa parte nascosta che pochi o tanti conoscono. Sì, diciamo che gli indirizzi internet che conosciamo noi sono veramente una piccola parte di quello che è la rete. Nel Dark Web ci sono tutti quegli indirizzi, tutti quegli indirizzi che non sono raggiungibili dal motore di ricerca. Perdonami, ma può un ragazzino accedere al Deep Web con qualche conoscenza informatica? Dovrebbe avere, a volte ho l'indirizzo specifico o tramite comunque dei software specifici, sì. Questo sì, è un po' più difficile, un po' più complicato, ma insomma potrebbe accedere. Tu ne parli che sia il lato oscuro del web, quindi bene o male tratti anche questa materia? Tocco un po' meno all'argomento, anche se perché è il più pericoloso che potrebbe indurli comunque a far ricerche su come si finisce nel Deep Web. Questo è anche deleterio. Noi facciamo sempre l'esempio di un iceberg, la parte di internet che conosciamo noi è praticamente solo la punta. È quella esposta. Tutto quello che c'è sotto è praticamente molto più grande, giusto? Quello che non si vede. Sì, perché c'è dal commercio degli organi, piuttosto... Guarda, sta facendo dei bellissimi servizi un mio amico che si chiama Marco Camisani Calzolari, che trattano praticamente l'argomento del Deep Web, in questo momento è sulle reti nazionali, per cui quel messaggio che si dà è fate attenzione perché c'è la vendita di armi. Quindi anche noi, insomma, comuni, comuni e persone che siamo a casa che navighiamo, ci rendiamo finalmente conto che esiste una parte di internet e quindi è bello che cominciamo a informare anche a casa. In una delle tue tante interviste che hai rilasciato, reciti i testuali parole. I miei figli sono cresciuti in un ambiente dove il digitale è visto come la normalità e proprio per questa ragione sin da subito mi sono posto al problema di come educarli ad usare internet e soprattutto come tutelarli. Ultimo particolare, ma non per importanza, dici che spesso sono loro a fornirti il pretesto per approfondire le questioni legate alle scelte degli strumenti, a osservare i loro comportamenti e ad immaginare una soluzione. Ce ne fossero ma mai come te, Katia? Cosa mi dici a riguardo? Ma è vero che sono loro a fornirmi gli spunti, perché tante volte se mio figlio ascolta è uno youtuber, io devo sapere chi è, di cosa parla e perché lui è interessato ad ascoltarlo. Ultimamente c'è il fenomeno delle canzoni che dicono delle parole che non dovrebbero dire, dei testi che non dovrebbero essere, però i nostri ragazzi li ascoltano. Dobbiamo cercare di farci la domanda prima, perché li ascoltano? E quindi tante volte insomma io vado a indagare un po' su quello che c'è nella rete, proprio per parlare con i ragazzi e dire, ragazzi fate attenzione perché i messaggi che voi ascoltate sono questi, ma sono messaggi che sono fatti apposta per avere un pubblico di riferimento come voi e per insomma far soldi, perché poi alla fine... Un pubblico neanche poi tanto di nicchia, quindi alla fine stiamo parlando di un pubblico molto vasto, no? Sì, 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 tanti youtuber sono insomma, tanti cantanti che conosciamo sono nati su youtube, quello lo sappiamo. Che cosa ne pensi degli influencer? Come li contestualizzi? Come li definisci? Come li cataloghi? Tra virgolette? Guarda, è un tema molto utilizzato, i veri influencer sono veramente pochi secondo me poi alla fine, cioè tutti vogliono essere la Chiara Ferragni di turno, ma solo lei è riuscita a fare i soldi facendo veramente l'influencer, perché tante volte anche i follower piuttosto che i seguaci che abbiamo sui social network sono comprati, quindi secondo me, cioè lì c'è un argomento, però funziona così, si possono contare... Su questo potremmo veramente aprire un dibattito e scriverci in un'enciclica papale, perché è veramente un argomento molto molto interessante. Sì, quindi molte volte quando uno si definisce un influencer, secondo me bisogna andare poi a vedere se effettivamente sia così, perché l'influencer è colui che ti influenza sulle decisioni di acquisto, solo quelli sono coloro che possono definirsi influencer, gli altri... Però potrebbe essere dannoso l'influencer per i ragazzini, per quelli più piccoli? Ah sì, sicuramente questo sì. Anche questi famosi cantanti, questi rapper, che si definiscono tale perlomeno, insomma, il rischio c'è evidente? Secondo me c'è il rischio, ma comunque dipende il messaggio che viene dato anche tra le mure domestiche, perché se questi ragazzi non vengono seguiti, sì, è vero, possono ispirarsi dei modelli che... ma se sono seguiti possono magari andare a un concerto di Sfera e basta e poi a casa essere... scusa se ho citato... Sì, sì, ma per carità tutti lo conosciamo, è sulla bocca di tutti, quindi... Sì, è stato sulla bocca di tutti per i suoi testi che sono veramente un po' violenti, però secondo me i ragazzi non è che possono emulare quello che viene detto nei testi di Sfera, lui rappresenta una parte... Anche perché il più delle volte quello che viene scritto nei testi non viene comunque contestualizzato nella vita privata del cantante oppure dell'influencer di turno, giusto? Esatto, esatto. Ritornando alla parte nascosta del web, mi daresti una spiegazione sommaria della differenza tra il dark web e il deep web? Ma è... Ma non ti fanno confusione, non danno... io ho letto su internet delle cose inerrabili... Ma sono comunque la stessa identica cosa, solo che una parte praticamente non è accessibile, è accessibile dal... insomma, avendo l'indirizzo, un'altra parte è accessibile solo con dei software. Non vedo altre differenze da quel punto di vista, non è un argomento che io tratto, quindi... Però su queste cose i più piccoli possono tra i violetti stare tranquilli perché bisogna avere delle capacità specifiche per entrare in questi siti, giusto? Sì, sì, quello sì, assolutamente sì, non è che io adesso entro nel dark web, se non ho un indirizzo IP specifico, no. Ci siamo trovati a volte di fronte a dei casi veramente gravi di persone veramente piccole, 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 stiamo parlando di 10-11 anni che sono di veri e propri geni e hanno comunque scardinato determinati sistemi finanziari, bancari e finché ce n'è... Vabbè, qui stiamo parlando dell'eccezione che conferma la regola. Sì, siamo già oltre. Nel senso che noi dobbiamo pensare a quei 90% di ragazzi che in questo momento sta navigando e non sa assolutamente dove andare a... Che poi ci siano dei geni che si comincia da piccoli ad approcciarsi alla rete, quello... Beh, però ti dico, il dark web, il deep web non sono il mio argomento, non lo tratto perché comunque i pericoli più reali per loro sono proprio l'adescamento, cioè l'essere contattati da adulti, dai pedofili, avere... perché tante volte cominciano a chiacchierare con altre persone e queste persone sono degli adulti che adescano delle ragazzine di 13-12 anni. Che funzioni hanno gli organismi di vigilanza, nella fattispecie le forze dell'ordine in questo contesto, in questo contesto telematico? Allora, ricordiamo che la Polizia Postale è attivo sul nostro territorio ed è una parte della Polizia di Stato che si occupa proprio dei reati informatici, quindi noi possiamo fare la denuncia online. Tra l'altro noi che siamo fortunati di essere sul territorio piemontese, insomma, ce l'abbiamo qui a Torino, a due passi, se conviene fare la denuncia, se succede qualcosa, insomma, attiviamoci perché la Polizia Postale sicuramente può fare molto. Assolutamente sì. Mi piacerebbe adesso concludere con una frase di Francesco Sole. Al giorno d'oggi le relazioni iniziano con un mi piace e finiscono con un rimuovi dagli amici. Per oggi è tutto, ringraziamo Katia Dorta di essere stati con noi, la salutiamo e naturalmente ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Da Fabrizio Carbone è tutto, ciao!